Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono molto onorato di essere qui, ringrazio ovviamente dell'invito. Toccheremo un tema che ovviamente è molto caro. Un tema molto caro a tutti, sia dal lato vostro come consulenti, ma anche e soprattutto dal lato nostro come produttori di fondi. Perché riteniamo che il concetto dell'indipendenza sia un concetto molto importante e che soprattutto dà quel valore aggiunto che va oltre a quello che generalmente si guarda un po' nel nostro settore. Perché, devo fare questa premessa, nel nostro settore la cosa principale a cui si guarda è sempre il risultato. E quindi bisogna anche anteporre al discorso del risultato, delle performance, di quello che facciamo, dei fondi che vanno bene e vanno male, anche un cappello che invece deve dare quel valore aggiunto a prescindere da quello che è il risultato effettivo dei fondi. E credo che il concetto dell'indipendenza risponda molto bene e che poi si abbraccia molto anche al discorso del risultato, non tanto ottenuto casualmente nel breve periodo, ma un risultato che sia più stabile, più duraturo e più persistente nel tempo e soprattutto nel medio e lungo termine, che dovrebbe essere quello che è un po' il cuore del risultato degli investimenti dei nostri clienti. E credo che il tema dell'indipendenza, partendo soprattutto da due concetti che sono rappresentati nella prima slide che vi presento, che sono quello dell'assenza dei conflitti di interesse e di avere come unico obiettivo il cliente, siano due concetti su cui spendere qualche minuto di questa giornata. Primo perché l'indipendenza permette di potersi muovere sia da una parte che dall'altra senza avere dei conflitti di interesse evidenti. Cioè è ovvio che se un consulente fa parte di una struttura che ha determinati prodotti, ha un determinato stile di investimento, ha un determinato modo di porsi ai confronti della clientela, non ci sono grosse possibilità di poter andare al di fuori di questo ambito e quindi quelli sono i prodotti e il cliente viene vincolato ad una serie di opportunità di investimento, di possibilità di investimento dettate da quello che è l'ambito della società per cui il consulente lavora. Essere indipendenti vuol dire potersi porre con le proprie idee, con tutti i prodotti che uno può avere in vetrina, con tutte le opportunità che può raccogliere all'interno del mercato senza avere un conflitto di interessi dettato dalle linee che magari la casa madre può imporre. Questo vale anche per il gestore. Noi crediamo di poter fare e di poter dare valore aggiunto facendo il nostro lavoro in un certo modo la storia ci è anche venuto incontro negli anni visto che abbiamo avuto dei risultati anche nelle esperienze passate sicuramente interessanti e quindi questo fatto di non avere un conflitto di interesse cioè nessuno ci impone di dover investire necessariamente in alcuni mercati, in alcuni settori, in alcuni titoli ma siamo noi gestori che scegliamo liberamente di fare quello che riteniamo giusto fare nell'interesse del cliente la stessa cosa vale anche per il consulente. Quindi l'indipendenza è sicuramente un elemento che riteniamo essere assolutamente fondamentale nel nostro lavoro e ovviamente questo fa sì che tutto quello che noi facciamo nel bene e nel male perché purtroppo il nostro è un lavoro maledetto cioè non necessariamente se facciamo tutto bene ogni giorno riusciamo ad ottenere sempre quello che desideriamo ma sicuramente partendo dal presupposto di non avere conflitto di interesse di avere come obiettivo finale il raggiungimento insieme e con il cliente di quelli che sono i suoi obiettivi sicuramente ci mette in una posizione che al di là di quello che è il risultato è una posizione che ex ante è sicuramente più eticamente nella stessa direzione ci mette ad avere gli stessi obiettivi e gli stessi interessi di quelli che possono essere quelli del cliente. Naturalmente questo è un elemento quello dell'indipendenza che va un po' contro a quella che è la struttura oggi esistente che invece è una struttura dove l'indipendente fa un po' parte della nicchia del mercato non è certamente il modello prevalente dove invece la struttura è un po' quella che dicevamo prima quindi lavorare da un punto di vista di realtà indipendente è sicuramente molto più difficile cioè le difficoltà che si affrontano oggi nel mondo dell'indipendenza sono sicuramente molto molto più elevate ma questo ci deve dare stimolo perché nella vita è semplice fare le cose quando è tutto scritto è tutto strutturato, è tutto definito e basta seguire la linea che è dettata e tanto si arriva prima o poi a quel traguardo che è quasi sempre anche abbastanza auspicabile e lavorare da indipendenti non è facile cioè le difficoltà da affrontare tutti i giorni sono enormi ma pensate anche personalmente alla soddisfazione che si può avere nel momento in cui queste difficoltà vengono superate non solo personalmente ma anche insieme a quelli che sono i nostri clienti quindi sicuramente ci sono delle difficoltà maggiori lavorando da un punto di vista di indipendenti però ci sono anche delle soddisfazioni che sono decisamente molto più appaganti spesso e volentieri si ragiona un po' in termini di indipendenza pensando solo ed esclusivamente a quello che è l'aspetto materiale del nostro lavoro cioè cercare magari di limitare un pochino i costi è vero che è un elemento importante per cui il consulente indipendente può permettersi di lavorare anche a costi decisamente più contenuti rispetto al modello tradizionale però non deve essere solo questo l'elemento che contraddistingue l'indipendenza perché l'indipendenza deve necessariamente essere contraddistinta anche da questi altri elementi che abbiamo evidenziato prima cioè dal fatto di lavorare senza conflitti di interesse e soprattutto di lavorare con il cliente per il cliente per cercare di raggiungere insieme a lui gli obiettivi perché se sono allineato con gli obiettivi del cliente che non sono quelli di dover necessariamente distribuire i prodotti che la casa mi dice di distribuire a prescindere dalla tipologia di cliente ma se sono allineato con lui ho sicuramente degli elementi e dei principi da far valere a differenza di quello che è il modello tradizionale e questo vale anche un po' per noi produttori quindi è importante da indipendenti non avendo un marchio, un brand alle spalle che ti copre che ti fa dire io sono di e questo vale già per aprirti tutte le porte no, l'indipendente si trova a dover lavorare per rendersi credibile e la credibilità come la otteniamo? ovviamente la credibilità la otteniamo con i risultati che dicevamo prima essere un elemento che viene costantemente messo sotto osservazione dai clienti e dal sistema in cui viviamo tutti i giorni ma questo risultato lo si ottiene con due elementi che secondo me sono fondamentali cioè la competenza che comunque è qualcosa che fa parte di molti operatori del nostro settore ma l'altro aspetto cioè la persistenza dei valori è qualcosa che invece è molto più raro trovare all'interno del nostro mondo cioè credere in alcuni valori e portarli avanti in maniera costante negli anni anche in quei periodi in cui quei valori fanno fatica ad essere espressi dai risultati che possiamo ottenere sono due elementi che possono permettere di ottenere quello che dicevamo prima essere l'obiettivo cioè non il risultato a breve, casuale perché siamo stati bravi per i sei mesi passati ma un risultato che si rifà ad un concetto ben più ampio che è quello che dovrebbe essere legato al mondo degli investimenti cioè al concetto del medio e lungo termine ovviamente il nostro è un percorso che si è basato sin dall'inizio su questo elemento di valore di alcuni principi e soprattutto della persistenza e della coerenza di questi principi e uno di questi lo accennava prima che Deborah è quello della gestione attiva noi riteniamo che sia un elemento che ci ha sempre contraddistinto nel corso della nostra esperienza anche nell'esperienza passata noi in ACOMEA siamo i vecchi fondatori di Anime SGR abbiamo fatto un case storico con Anime siamo ripartiti nel 2010 ma i nostri principi sono rimasti quelli cioè quelli della coerenza nei confronti di 3-4 punti principali per quanto riguarda la gestione quindi una gestione attiva cerchiamo di identificare all'interno della gestione attiva quello che noi chiamiamo la ricerca di valore anche andando contro quelli che sono i trend di mercato perché spesso e volentieri il valore non è qualcosa che viene messo sotto le lenti di ingrandimento che tutti quanti lo vedono il valore va ricercato e va trovato laddove gli operatori non vanno a guardare spesso e volentieri è lì che si trova il vero valore diciamo un modo un po' contrario di gestire i risparmi dei nostri clienti e poi cercare di operare sempre in maniera coerente e graduale perché è necessario e riteniamo che questo sia un altro elemento almeno dal punto di vista della gestione ma anche dal punto di vista della consulenza che vada tenuto fortemente in considerazione non cerchiamo di ottenere tutto subito oggi perché abbiamo il mago Zurli che ci dice che oggi i mercati sono alti o bassi ma cerchiamo di farlo in maniera graduale cioè non ne sappiamo oggi se siamo sui massimi o sui minimi dobbiamo cercare di muoverci gradualmente e reagire a quelli che sono i movimenti di mercato ecco questi sono i principi che ci hanno sempre contraddistinto e che ci permettono di poter essere indipendenti perché nessuno potrà mai venire a dirci basta non fate più gestione attiva basta non fate più il value fate il growth basta non fate più il contrario noi siamo così questa è la nostra figura ci sono dei momenti in cui il mercato ci premia e siamo ben contenti ci sono momenti in cui abbiamo difficoltà come tutti quanti però l'importante è essere identificati nel mercato come dei player con delle caratteristiche questo vale soprattutto per chi sta nelle nicchie come noi indipendenti ecco un altro elemento che tendiamo ad evidenziare è quello della trasparenza cioè fare il nostro lavoro spesso e volentieri io che vado ogni tanto anche a sentire altri gestori nessuno mai ti dice dove è veramente investito nessuno mai ti dice veramente quello che pensa per me non c'è problema noi abbiamo i portafogli che sono pubblicati sul sito e sono aggiornati giorno per giorno con tutte le posizioni ognuno sa chiunque può entrare a vedere dove siamo investiti in quale società abbiamo tutto il portafoglio sia su Bloomberg che sul nostro sito non c'è nessun problema la trasparenza deve essere la cosa che deve contraddistinguere chi produce non ci sono segreti dietro ai fondi investimenti non è che facciamo i magheggi sono cose abbastanza semplici siamo persone normalissime noi gestori non siamo dei geni che vedono il là nel futuro ecco l'altro aspetto importante e vado mi avvio a conclusione perché il tempo ahimè corre è un altro elemento che ci ha sempre contraddistinto che comunque i manager della società sono anche soci cioè noi abbiamo sempre cercato di lavorare in un contesto in cui siamo direttamente coinvolti cioè se andiamo cerchiamo di fare il possibile per andare bene perché non abbiamo diciamo che ci viene in aiuto siamo noi che dobbiamo cercare di portare avanti la nostra realtà di farla crescere perché è l'unico modo che abbiamo per poter gestire una società che è nostra dove nessuno ci dà nessun tipo di difese di copertura quindi siamo una società molto aperta abbiamo anche recentemente aperto con un piano di di warrant la società anche a tutti i dipendenti tutti quanti quindi questo è un elemento che sicuramente contraddistingue la nostra SGR rispetto ad altre realtà ecco volevo chiudere il mio intervento con una frase del filosofo matematico statistico Nassim Taleb personaggio che noi abbiamo invitato l'anno scorso a un ciclo di conferenze che facevamo sulla verità vi prego sul denaro e lui dice sostiene un concetto che secondo me è basilare fondamentale soprattutto per noi dipendenti cioè if you don't take the risk cioè se tu non prendi i rischi per le tue opinioni per quello in cui tu credi veramente e non sei nessuno quindi se ci credi in una determinata cosa devi cercare di prenderti tutti i rischi possibili e cercare di mettere tutte le energie possibili per portare avanti quelli che sono i tuoi concetti in cui credi vi ringrazio e ci vediamo dopo per parlare invece di mercati che è un tema che forse magari vi interessa grazie grazie Giovanni ti prego di rimanere ancora un attimo perché abbiamo la consegna del cadeau e comunque richiamare i cigni neri in questi giorni non è che sia proprio ecco vediamo un po' va di non evocare momentacci di mercato che qua ogni tanto tornano tra di noi però insomma stamattina mi pare tutto tranquillo al momento i piatti non sono volati a Bruxelles non so bene cosa stia succedendo ma grazie Giuseppe tu sai qualcosa per caso sai niente credo chiedo agli amici delle fonti se hanno portato delle notizie un po' che possiamo così sparare in mezzo alla folla grazie grazie Giovanni Brambilla per il vostro contributo grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri